L'apparato tegumentario è tutto quel sistema di rivestimento del nostro corpo, costituito sostanzialmente da annessi cutanei e cute. Di fatto, la cute è l'organo più esteso del nostro corpo ed è anche il più evidente. Ha diverse caratteristiche macroscopiche, infatti a livello visivo la cute presenta una superficie di circa 2 metri quadrati e un peso di circa 15 kg. E questo può variare in base a due fattori, ovvero il peso dell'individuo stesso, consideriamo in genere un peso standard di circa 70 kg, ma anche la definizione di cute. Alcune definizioni infatti escludono dalla cute il terzo strato, ovvero l'ipoderma, considerandolo una struttura di posa a sé stante. Inoltre, la cute ha uno spessore molto variabile e dipendente sostanzialmente dal livello funzionale richiesto. Ha una mobilità molto elevata rispetto ai tessuti sottostanti, che generalmente sono strutture di tipo muscolare scheletrico striato rivestito da fasce muscolari, che sono funzionali al mantenimento dell'integrità strutturale e allo stesso tempo della mobilità. L'unico punto in cui non vi è mediazione nella relazione fra muscolo e cute è il viso. I muscoli mimici, che hanno una sensibilità estrema, esprimendo movimenti anche minimi, sono in diretto rapporto con la cute. Inoltre, la cute può avere un colore variabile in relazione alla razza o le regioni del corpo. In particolare, è variabile in relazione all'esposizione ai raggi ultravioletti. Inoltre, la cute è prevalentemente liscia a livello macroscopico, ma presenta delle irregolarità naturali, ma che a volte possono presentare anche natura patologica. In particolare, queste irregolarità naturali sono le depressioni puntiformi, in corrispondenza dell'emersione della sottostante epidermide, del complesso sebopilifero. E queste sono luogo, soprattutto in età puberale, di infiltrazioni batteriche, che possono generare dei foruncoli. Sono pericolosi in particolare se si sviluppano nella regione neurocranica, in quanto in questa regione i vasi sanguigni vicini all'infezione sono in comunicazione con l'encefalo e possono essere veicolo di infezioni più gravi, come la meningite. Inoltre, tra queste irregolarità naturali abbiamo i solchi superficiali. Ad esempio, nelle parti distali delle dita si trovano le impronte digitali, ma anche i solchi profondi, come sul palmo della mano. Abbiamo inoltre le creste, che si tratta di punti nei quali il derma compenetra l'epidermide. E abbiamo anche le pieghe, che si presentano a livello delle articolazioni. Nell'anziano sono più accentuate per la perdita di alcune componenti importanti a livello strutturale, ma in particolare la struttura della cute o della pelle è organizzata in tre strati, epidermide, derma e ipoderma. L'epidermide è l'epitelio pavimentoso pluristratificato cheratinizzato, che appunto sta sulla superficie del nostro corpo. Il derma, invece, è uno strato connettivale fibrillare, denso in fibre intrecciate, ricco in glicosamminoglicani e proteoglicani funzionali a mantenere la idrofilicità dell'ambiente, che deve essere idratato per garantire lo scorrimento della struttura sulle fibre muscolari sottostanti. È alla buona diffusione delle molecole nutrizionali a livello dell'epidermide, che ovviamente non è vascularizzata. Infatti, l'epidermide trae il nutrimento dai vasi sottostanti. Nel derma si collocano anche le parti più profonde di due tipologie di ghiandole, che sono le ghiandole sebacee e quelle sudoripare. Nell'ipoderma, invece, abbiamo un tessuto connettivale adiposo funzionale alla protezione termica del corpo ed è detto anche pannicolo adiposo. In caso di condizioni di nutrizione insufficiente, il tessuto adiposo può trasformarsi in tessuto connettivale lasso. L'epidermide è una struttura altamente funzionale caratterizzata dalla presenza di più strati a formare un epitelio pavimentoso pluristratificato, squamoso o cheratinizzato. Si tratta di un epitelio caratterizzato dalla presenza di cellule cheratinizzate e la cheratina è una proteina dura caratterizzata dalla presenza di una grande quantità di ponti solfuro. Le cheratine si trovano anche nelle zone più alte dell'apparato digerente, come la bocca, per proteggerlo da stress di tipo meccanico. I citotipi presenti sono molti, ma in particolare si ricordano i cheratinociti, che sono le cellule coinvolte nella citomorfosi cornea, ovvero il processo che porta alla formazione della lamella cornea, a partire da una cellula staminale adulta e fornisce il materiale necessario alla protezione meccanica del corpo. Abbiamo poi i melanociti, che producono melanina, le cellule di Langerhans, che sono cellule del sistema immunitario e svolgono un ruolo macrofagico. Abbiamo poi le cellule di Merkel, che sono cellule che in realtà sono meccanorecettori tipici dell'epidermide, che generalmente si presentano associati nel disco tattile. I cheratinociti subiscono un processo di trasformazione graduale, che si esemplifica a livello dell'epidermide in una serie di strati diversi. Infatti l'epidermide è formato da diversi strati, tra cui lo strato basale, nel quale gli elementi sono di forma chiaramente cubica, dotati di tonofibrille e tonofilamenti. Il processo di mitosi che si svolge a questo strato è simile a quello che si svolge nei tubuli seminiferi. Ovviamente per mitosi si producono due cellule, una delle quali diventerà lamella cornea, muovendosi verso la superficie, mentre l'altra resterà in loco per dare vita in futuro ad altre cellule. Andando più in profondità abbiamo lo strato spinoso. Lo strato spinoso è uno strato composto da cinque file cellulari. Le cellule sono caratterizzate da una forma tondeggiante spinosa e tendono ad appiattirsi. In questo strato le cellule sono ancora completamente funzionanti. Sempre verso la superficie abbiamo poi lo strato granuloso che è composto da tre o quattro file cellulari. Comincia a questo livello la degenerazione cellulare, quindi le cellule cominciano a perdere la loro funzionalità e si riempiono di granuli detti granuli di cheratinoialina. Quindi abbiamo queste cellule che tendono a diventare granulari con granuli di cheratinoialina. Successivamente troviamo lo strato lucido che non è sempre presente. Infatti è formato da due o tre strati cellulari e le cellule sono caratterizzate dalla presenza di un'altra proteina, l'eleidina. Infine, in superficie troviamo lo strato corneo. Lo strato corneo è costituito da vere e proprie lamelle corne e non è più presente il nucleo. Si tratta di semplici lamelle che sono dure e piene di cheratine. Tutto il processo di citomorfosi dura all'incirca quattro settimane e dipende da vari fattori. I citotipi presenti assieme ai cheratinogiti hanno funzioni varie e molto particolari. Tra le cellule più particolari presenti sicuramente sono da ricordare i melanociti. Si tratta di cellule di forma tentacolare che secernono tramite secrezione un pigmento che viene prodotto all'interno della cellula in una struttura detta melanosoma e viene secreto poi fuori dalla cellula tramite il distacco di parti di citoplasma. Viene successivamente endocitato dai cheratinogiti che lo preservano all'interno della loro struttura cellulare. La melanina è un pigmento protettivo per le cellule rispetto ai danni provocati dai raggi UV. Il derma è una membrana connettivale distensibile ed elastica di spessore variabile che si colloca al di sotto dello strato epidermico. Si tratta di una struttura connettivale densa a fasce intrecciate di fibre immerse in un'abbondante matrice amorfa. I citotipi presenti sono numerosi, in particolare sono fibroblasti, melanociti, mastociti e leucociti. I fibroblasti sono un citotipo sicuramente presente. In particolare sono responsabili della produzione e della regolazione della matrice extracellulare e quindi anche della produzione di collagene ed elastina. I melanociti sono cellule che agiscono in parte anche in questo strato, ma migrano principalmente nell'epidermide. I mastociti sono cellule molto simili ai basofili del sangue e presentano un alto contenuto di eparina e di stamina e sono responsabili delle reazioni allergiche. I leucociti invece sono cellule del sistema immunitario presenti nel tessuto connettivo in stato più o meno attivo. Principalmente sono neutrofili con azione antibiotica e fagocitaria, ma anche eosinofili e quindi cellule capaci di limitare la reazione immunitaria tramite l'utilizzo di iperossidasi, che è un enzima che degrada i leucotrieni, e istaminasi, che è l'enzima che degrada invece l'istamina. La struttura connettivale per necessità di natura meccanica presenta una componente muscolare. In particolare si tratta di fibre muscolari striate e lisce e presenta inoltre alcune strutture fondamentali come i vasi sanguigni, gli adenomeri di ghiandole sudoripare e sebacee. La struttura del derma è suddivisibile in due strati principalmente. Uno strato papillare è uno strato reticolare. Lo strato papillare è quello più superficiale del derma, che prende rapporto con la struttura dell'epidermide e la parte dermica della struttura giunzionale detta papilla dermica. Questa papilla dermica è una sporgenza conica rivolta verso l'epidermide caratterizzata dalla presenza di un microcircolo molto denso e funzionale alla nutrizione dello stato epidermico, ma anche va in espansione a causa del calore in eccesso presente in caso di febbre, per esempio. E poi abbiamo anche i corpuscoli tattici a livello dello strato papillare. I corpuscoli tattili sono meccanoregettori particolari. Lo strato reticolare invece è lo strato più profondo caratterizzato dalla presenza di strutture di giunzione che attraversano il sottostante ipoderma per raggiungere la struttura adesso sottostante. I peli sono produzioni epidermiche, filiformi e flessibili costituite da cellule, sostanza cornea e fibre connettivali. Comprendono un fusto o porzione libera e una radice dotata all'estremità di un riconfiamento o bulbo infisso obliquamente in una invaginazione dell'epidermide ovvero il follicolo pilifero. I peli di diverso colore sono variamente distribuiti sulla pelle dell'uomo e degli altri mammiferi. I peli sono annessi cutanei che si formano in strutture complesse chiamate follicoli piliferi. Questi originano negli strati profondi del derma e si proiettano spesso fino allo strato sottocutaneo. L'epitelio alla base del follicolo circonda una piccola papilla di tessuto connettivo che contiene capillari e nervi e costituisce la matrice del follicolo stesso. La formazione del pelo è una particolare variante del normale processo di corneificazione. Le cellule basali della matrice si dividono e gli strati sovrastanti si cheratizzano. Le cellule più vicine alla papilla formano la parte midollare posta all'interno del pelo di densità minore mentre le successive divisioni cellulari portano alla formazione della porzione corticale verso l'esterno. L'amidollare contiene una cheratina più flessibile e meno resistente simile a quella presente nello strato corneo dell'epidermide mentre la cheratina della corticale è più dura e conferisce al pelo la sua resistenza. Il pelo è infine rivestito da una cuticola che è uno strato molto duro di cheratina. Ciascun pelo ha una radice dotata all'estremità di un rigonfiamento o bulbo che include la papilla o matrice e un fusto di dimensioni, forma e colore variabili. Le differenze tra i peli delle diverse regioni del corpo dipendono dalle dimensioni del follicolo, dall'attività delle cellule follicolari e dalla forma del pelo. Le differenze nel colore dei peli determinate geneticamente sono legate a diversità di strutture e di produzione del pigmento originato dai melanociti a livello della papilla. La produzione del pigmento melaninico diminuisce con l'età e questo causa il progressivo ingriggimento dei peli dovuto anche alla comparsa di bolle d'aria nel loro strato più interno. Nell'albinismo generalizzato, una condizione patologica ereditaria che interessa anche il colore della pelle e degli occhi, i peli sono bianchi perché le persone affette non sono in grado di produrre melanina. Il pelo non è una struttura permanente ma è soggetto a un ciclo di crescita che può essere un processo continuo e graduale o può limitarsi a un determinato periodo dell'anno. Mentre ciò avviene, la radice del pelo appare strettamente ancorata alla matrice follicolare e al termine del ciclo il follicolo diventa inattivo e successivamente si interrompe la connessione tra la matrice e la radice del pelo. All'inizio del successivo ciclo di crescita il follicolo produce un nuovo pelo che crescendo sposta verso l'esterno il precedente il quale viene eliminato. Gli annessi cutanei sono strutture estremamente importanti per il funzionamento del nostro corpo e della cute stessa ma non svolgono di fatto una funzione protettiva o di sostegno. Gli annessi cutanei sono suddivisibili sostanzialmente in tre categorie le ghiandole, l'unghia e i peli. Le ghiandole presenti a livello cutaneo sono sostanzialmente due le ghiandole sebacee che fanno parte dell'apparato pilosebaceo e secernano il loro prodotto a livello del follicolo pilifero. Un eccesso di lavaggi porta a volte ad una eccessiva eliminazione del sebo che porta quindi alla mancata protezione della cute e addermatiti o comunque infezioni di vario genere. Ma in questo paragrafo parleremo delle ghiandole sudoripare. Le ghiandole sudoripare possono essere di natura ecrina o apocrina. In ogni caso presentano una struttura glomerulare costituita da tre citotipi le cellule chiare, le cellule scure e le cellule mioepiteliali. Le cellule chiare sono a secrezione sierosa quindi vanno a secernere un particolare tipo di secreto. Le cellule scure sono a secrezione mucosa quindi producono un secreto ricco di mucina. E abbiamo poi le cellule mioepiteliali che sono funzionali ad una contrazione dell'adenomero che spinge il secreto all'esterno. Queste strutture si collocano principalmente nel derma e nell'epidermide ma in alcuni punti dove il derma si presenta scarso possono immergere i propri adenomeri fino all'ipoderma. Quindi le ghiandole sudoripare costituite principalmente da questi tre tipi di cellule vanno a secernere il sudore. Il sudore è un liquido acquoso ed incolore di sapore salato. Esso è secreto in quantità media di 500-800 ml al giorno dalle ghiandole sudoripare che disseminate praticamente in tutti i distretti cutanei lo riversano sulla superficie dell'acute. La secrezione è avviata da uno stimolo nervoso e risposta all'aumento della temperatura corporea. L'evaporazione del sudore serve infatti al raffreddamento del corpo. Il sudore può almeno in parte coadiuvare anche la funzione renale perché consente di eliminare una certa quantità di urea e di metaboliti. Un altro suo importante compito è quello di inumidire le superfici sottoposte ad attrito come quelle dei palmi delle mani o delle piante dei piedi impedendo lo sfaldarsi dello strato corneo migliorando la presa e acuendo la sensibilità tattile. Il sudore è composto prevalentemente da acqua circa il 99,1% e acqua. In questo liquido quindi nell'acqua contenuta nel sudore sono disciolte varie sostanze organiche come l'urea, l'acido urico, la creatinina, l'acido piruvico, l'acido lattico, eccetera, che costituiscono complessivamente lo 0,2% del sudore. Sono disciolte anche sostanze inorganiche come il cloruro di sodio, i solfati, i fosfati che costituiscono in percentuale lo 0,7%. Con il sudore possono essere eliminate anche alcune sostanze farmacologicamente attive come l'acido salicilico, il fenolo o la morfina ma anche sostanze tossiche come la nicotina. Il sudore per lo più è leggermente acido e il suo odore varia nei diversi distretti cutanei di uno stesso soggetto e dentro certi limiti varia anche da individuo a individuo. Le ghiandole sudoripare sono quindi piccole, si trovano nello strato più profondo del coriondermico e in quelle superficiali dell'ipoderma. Si distinguono in ecrine ed apocrine. Le ghiandole sudoripare ecrine sono ghiandole merocrine cioè rilasciano il loro secreto per esocitosi attraverso la membrana cellulare senza danno per la cellula e secernono il sudore in modo pressoché continuo. Sono ghiandole tubulari a gomitolo mentre le ghiandole sudoripare apocrine presentano accumulo del secreto nella porzione apicale e vanno a rilasciare il secreto tramite esocitosi fuori dalla cellula. Le ghiandole sudoripare apocrine sono un gruppo limitato che viene identificato in alcuni distretti corporei. sono più rappresentate nel sesso femminile e hanno un secreto intenso e fortemente odoroso soprattutto dopo lo stimolo simpatico. L'unghia è una struttura composta da cheratinociti super addensati molto più addensati che nel caso dell'epidermide per questo l'unghia non si sfalda l'integrità strutturale e la compattezza sono garantite da un processo di ulteriore specializzazione cellulare che comincia dalla radice dell'unghia e procede verso la punta e che comporta la formazione di legami ancora più stretti rispetto a quelli dell'epidermide questi legami ovviamente sono legami fra le cellule quindi questi cheratinociti sono super addensati con formazione di legami molto stretti la struttura dell'unghia può essere descritta in vari modi ma soprattutto andiamo a distinguere la radice la cuticola il corpo dell'unghia e le pieghe e papille dermiche la radice è la parte più profonda immersa nel derma dalla quale tra origine il processo di cheratinizzazione che garantisce l'integrità dell'unghia la cuticola media il passaggio dell'unghia dalla profondità del derma alla superficie il corpo dell'unghia è la parte esterna dell'unghia stessa mentre le pieghe e le papille dermiche mediano il contatto fra il derma sottostante e l'unghia stessa il derma sottostante all'unghia presenta ovviamente tutte le caratteristiche dei tessuti connettivi normali comprese terminazioni nervose e numerosi microcircoli quindi riassumendo potremmo dire che l'unghia è la formazione cornea dell'epidermide che nell'uomo ricopre la faccia dorsale dell'estremità delle dita svolge essenzialmente una funzione di protezione e limita la distorsione meccanica delle parti distali delle dita l'abitudine di rosicchiarsi le unghie detta onicofagia rientra nel quadro dei comportamenti compulsivi e dà luogo a deformazioni marcate del loro aspetto nell'uomo l'unghia riveste l'estremità dorsale delle falangette a forma quadrancolare e presenta un margine distale libero e un corpo centrale presenta anche due margini laterali incassati in una ripiegatura cutanea il sol congueale a decorso lungo curvilineo con concavità rivolta distalmente e inoltre presenta anche una radice profondamente incassata nel solco stesso la faccia inferiore dell'unghia aderisce saldamente ad uno strato dermoepidermico con caratteristiche strutturali proprie il letto ungueale costituito da uno strato detto epidermide sottocorneale e dal relativo strato dermico sottostante l'epidermide sottocorneale è formata da cellule che si differenziano per costituire il cosiddetto strato onicogeno dal quale origina la lamina ungueale tale strato è meno sviluppato in corrispondenza della base e della radice ungueale ed è una zona che pertanto è denominata matrice dell'unghia ed è appunto l'accumulo di cellule onicogene alle quali si deve il colore biancastro in una zona semilunare dell'unghia detta lunula localizzata in prossimità della sua base la pelle o la cute essendo un organo svolge varie funzioni tra le funzioni principali abbiamo un'azione protettiva proprio perché costituisce una barriera contro gli agenti esterni soprattutto contro i microbi inoltre la pelle svolge un'azione termoregolante tramite la secrezione di sudore infatti il sudore serve ad abbassare la temperatura corporea ma è responsabile anche della sintesi del cole calciferolo o della vitamina D questo è un meccanismo che avviene attraverso i raggi solari che vanno a convertire gli elementi necessari alla formazione di tale vitamina appunto nel prodotto finito ha anche un'azione disintossicante infatti tramite il sudore andiamo a segernere diversi metaboliti o sostanze di scarto come l'urea oppure i metaboliti farmaceutici la pelle ha inoltre una funzione sensoriale infatti tramite i recettori che sono posti nella nostra cute andiamo ad avere sia la sensazione tattile ma andiamo anche a riuscire a distinguere la percezione del caldo del freddo ma anche del dolore inoltre la pelle può segernere il sebo il sebo è una sostanza composta per lo più da lipidi che serve a lubrificare ma anche a proteggere gli annessi cutanei come i peli la pelle inoltre può essere utilizzata come via di somministrazione dei farmaci infatti ha una funzione assorbente proprio perché tramite la pelle possiamo assorbire creme pomate e comunque delle formulazioni farmaceutiche che sono necessarie per curare l'organismo sia a livello locale quindi curare direttamente la pelle ma anche curare l'organismo nella sua totalità infatti la pelle funge da via di assorbimento a livello sistemico più nel dettaglio possiamo dire che quindi la pelle ha una funzione protettiva infatti è una barriera fisica contro i microorganismi e questo può farlo tramite film di superficie ma anche perché la pelle è una vera e propria barriera meccanica infatti è anche una barriera contro le sostanze chimiche dannose e riduce gli effetti di traumi meccanici mediante la resistenza dei tessuti impedisce la disidratazione mediante la cheratina e protegge dalle radiazioni UV mediante la melanina il film di superficie di cui la pelle dispone è una barriera protettiva formata da una miscela di residui e secreti delle ghiandole sudoripare sebacee con frammenti di cellule epiteliali che sono desquamate dalla superficie della pelle il film ha azione antibatterica e antimicotica ma anche di lubrificazione di idratazione ma anche una funzione di tampone contro le sostanze irritanti e di blocco per gli agenti tossici la pelle agisce anche come un organo di senso infatti è responsabile della sensibilità i suoi recettori rilevano gli stimoli di dolore pressione tatto e temperatura mediante recettori della sensibilità generale osomatica inoltre la pelle può muoversi senza procurare danno infatti la pelle è elastica e questo permette la crescita del corpo e delle modificazioni dei contorni durante il movimento la pelle si occupa anche dell'escrezione regolando il volume e il contenuto del sudore il corpo può influenzare il volume totale dei liquidi quindi dell'acqua e la quantità di scorie come acido urico ammoniaca e urea infatti proprio regolando il volume e il contenuto del sudore andiamo a influenzare il volume circolante ha anche funzione endocrina quindi la pelle mediante l'esposizione e le radiazioni UV va a convertire un prodotto contenuto nella pelle detto 3-deidrocolesterolo che viene convertito appunto in colecalciferolo che è un precursore della vitamina D questa sostanza viene mediante il sangue trasportata al fegato dove verrà convertita in vitamina D ha anche una funzione di immunità infatti la pelle è dotata di cellule con capacità fagocitarie che distruggono i batteri e di cellule che fanno scattare la reazione immunitaria per determinate malattie innescando le cellule T-Helper quindi cellule del sistema immunitario che appunto vanno a mediare la risposta immunitaria la pelle svolge una funzione omeostatica termica poiché svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento dell'omeostasi della temperatura corporea equilibrando il calore prodotto e il calore perduto è responsabile della produzione di calore poiché il principale fattore della produzione di calore è la quantità di lavoro muscolare impiegato dal metabolismo degli alimenti nei muscoli scheletrici e nel fegato quindi la pelle evita che questo calore venga disperso ma è responsabile anche della perdita di calore poiché l'80% del calore viene disperso dalla pelle e il rimanente 20% dalle mucose e dei tratti digerenti respiratori ed urinario questa perdita avviene tramite evaporazione il raggiamento ovvero il trasferimento di calore senza contatto fisico tramite conduzione che è il trasferimento di calore con contatto fisico ma anche tramite convenzione ovvero il trasferimento di calore per il movimento dell'aria la perdita di calore attraverso la pelle è controllata da un circuito a feedback negativo ovvero i recettori dell'ipotalamo assicurano il monitoraggio della temperatura interna se aumenta l'ipotalamo invia il segnale nervoso alle ghiandole sudoripare e ai vasi della pelle e quest'azione continua finché la temperatura del corpo non torna normale a live